Un incontro sereno e costruttivo, così ha detto il presidente Marco Marziglio uscendo dalla riunione di questa mattina da cui è emersa la formazione della nuova giunta regionale. Equilibri rispettati ci ha tenuto a precisare Marziglio nonostante l'uscita del coordinatore di azione politica Gianluca Zelli. Otto posto in gioco in questa difficile partita per la formazione della nuova giunta regionale. Alla Lega spetteranno dunque quattro assessorati e la vicepresidenza della giunta. Un assessorato andrà a Forza Italia, che avrà anche la presidenza del Consiglio regionale, e il sottosegretario alla presidenza, mentre un assessorato andrà a Fratelli d'Italia. Domani in conferenza stampa verrà illustrato nel dettaglio il modo in cui gli assessorati saranno distribuiti tra le parti politiche. Il presidente della regione Marco Marziglio e il candidato non eletto di Fratelli d'Italia Massimo Verrecchia sono stati i primi ad arrivare questa mattina alle 8.20 nella stanza del neogovernatore al sesto piano di Palazzo Silone, fino alla settimana scorsa quartier generale di Giovanni Lolli. Per i salviniani si sono seduti al tavolo i deputati Giuseppe Bellachioma e Luigi Deramo, coordinatore e vice coordinatore regionali del Carroccio. Per Forza Italia il senatore Nazario Pagano, coordinatore regionale degli Azzurri. Per Fratelli d'Italia Cerasi Gismondi, coordinatore regionale del partito della Meloni. Per azione politica il coordinatore Zelli, che è stato appunto tra i primi ad abbandonare lo stanza di Marsilio senza rilasciare dichiarazioni. Abbiamo determinato la nuova giunta che darà all'Abruzzo il futuro che merita. Abbiamo individuato, diciamo ora dobbiamo soltanto determinare i dettagli su nomi e rispettive deleghe, ma l'intesa politica c'è, la maggioranza c'è e quindi abbiamo svolto un lavoro costruttivo, sereno e nelle prossime ore daremo anche i dettagli. Vi farò sapere per domani una conferenza stampa nella quale presenterò la giunta. Gli equilibri sono, la giunta sarà composta dal vicepresidente della giunta della Lega più tre assessori, un assessore di Forza Italia e un assessore di Fratelli d'Italia. Forza Italia esprimerà il presidente del Consiglio e il sottosegretario alla presidenza. Con questo pensiamo di aver trovato una giusta misura tra il rispetto degli equilibri sanciti dagli elettori e l'indirizzo politico che dobbiamo determinare con la nostra nuova giunta. Per azione politica c'è una posizione di assoluto riguardo all'interno dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale che nelle prossime ore appunto verrà ulteriormente definito. Io penso che sia necessario individuare una sintesi. Capisco che naturalmente rispetto alle legittime ambizioni e legittime aspettative di tutti, quando arriva il momento di dover restringere, anche nella ristrettezza delle posizioni disponibili, segnalo che la Regione ha solo sei assessori. Io questo lo considero comunque un problema di funzionalità della Regione, perché una normale città ha nove o dieci, a volte anche dodici assessori. Le Regioni hanno un patrimonio sterminato di deleghe e di competenze e di un lavoro enorme da fare su un territorio vasto e nel rapporto con Roma, dove quasi tutte le settimane gli assessori sono chiamati a presidiare i ministeri, conferenza, Stato e Regione. Io credo che affidare a sole sei persone questo compito in mani sia alla radice di tante disfunzionalità. Quindi porrò comunque questa riflessione al Consiglio regionale nella prima seduta, di riflettere su questo che è un limite oggettivo, che non riguarda una singola giunta. Io penso che alcune scelte del passato creino dei problemi rispetto a questo. È chiaro che poi non tutti possono essere soddisfatti fino in fondo delle loro rispettive ambizioni, però io penso che sia giusto rispettare gli esiti, i numeri, i pesi e che se tutti useranno buonsenso e ragionevolezza in questo, la legislatura di questa Regione andrà avanti speditamente. Conferma che ci sarà un assessore esterno? Sì. E lei in capo alla Lega? Esatto. Io non voglio neanche pensare a una defezione di qualcuno. Chi è stato eletto in maggioranza sta con la maggioranza. Ha un dovere di rispetto dell'esito elettorale. Fa parte del Consiglio anche perché c'è un robusto premio di maggioranza che premia anche le formazioni minore. e quindi concorrerà con pienezza di titoli all'indirizzo politico e amministrativo della Giunta e penso che sia dovere, oltre che diritto, di tutti gli eletti in maggioranza, di sostenere la maggioranza, di contribuire al suo percorso e di arricchire la proposta politica ed amministrativa della maggioranza del loro contributo. Quindi per me è un'ipotesi che non esiste nemmeno.